Preghiera del mattino Signore Gesù, che Ti sei fatto mio cibo e bevanda per comunicarmi la Tua vita divina e l'amore infinito del Padre, fa che io, ricevendoti nell'Eucaristia, possa corrispondere al Tuo invito e al Tuo esempio. Rendimi capace di amare Te sopra ogni cosa e i miei fratelli come amo me stesso. Amen Grazie